Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento con la rubrica Il Consiglio regionale della Toscana. Siamo qua a Firenze, a Palazzo del Pegaso, per seguire la seduta del Consiglio odierna, ma noi andiamo a vedere subito quali sono i temi all'ordine del giorno nel nostro sommario. Musica Tra i temi affrontati nella seduta del Consiglio regionale si è parlato di autismo e in particolare un atto è stato approvato dal Consiglio regionale con unanimità tra maggioranza e opposizione. Si è parlato di sostegni per le famiglie con figli autistici, ma si è parlato anche di sostegni e di educazione nelle scuole, di attenzione per questo tema. Si parla infatti, secondo i dati della maggioranza, di un bambino ogni 120 nati in Toscana. Quindi un tema che riguarda tutta la Toscana, molto importante, ma noi andiamo ad ascoltare nelle interviste dei gruppi politici quali sono le linee di regione Toscana, i sostegni e le attività precise che sono state approvate. È un documento importante, è un documento che rionosce dei diritti che le famiglie e soprattutto i ragazzi affetti dalla sindrome di autismo aspettavano. La questione per quello che riguarda, per dire, le risorse, per sanare perlomeno le richieste che erano state fatte nel 2023 dalle famiglie con handicap, soprattutto le famiglie di figli autistici. La questione del percorso ABA, percorso ABA che il 31 maggio verrà a concludere il tavolo voluto dal Ministro a Roma per capire se il percorso ABA è un percorso che dà dei frutti positivi. Possiamo dire che ieri in audizione il Governatore ci ha detto che tutte le persone che ha incontrato hanno detto che questo è. ha dato anche una disposizione che dice che là dove fino ad oggi sono stati riconosciuti questo tipo di servizio si continua a farlo, là dove invece non è stato riconosciuto in assenza di una direttiva precisa da parte del Governo questo non avvenga. Il 31 maggio si chiarirà tutto, però questo documento che esce dal Consiglio regionale la consideriamo una vittoria perché sono mesi che noi ci spendiamo, in realtà io sono anni che mi spendo sull'autismo sia per quello che riguarda la questione didattica, dobbiamo considerare che in Toscana mediamente ogni 120 bambini nasce un bambino affetto ad autismo, fortunatamente le diagnosi sono sempre più precoci, questo mette in condizione questi ragazzi di essere seguiti subito diciamo dall'infanzia più tenera. È importante dare a loro però anche un percorso scolastico, cercando di fare il massimo della formazione cosa che purtroppo ancora oggi non avviene per gli insegnanti d'appoggio perché quasi tutti questi ragazzi, soprattutto quelli ad alta e media funzionalità hanno capacità e specificità che se supportate e coltivate poi possono diventare risorse straordinarie per tutta la comunità. Quindi come Italia Viva siamo contenti di essere arrivati a questo documento peraltro votato all'unanimità in Consiglio regionale. È stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale un mio atto di indirizzo affinché le persone che vivono nello spettro autistico possano continuare nelle loro terapie in particolare la terapia ABA e quindi tutti i percorsi anche paralleli a questo. È un fatto anche di dignità perché nel 2023 erano stati negati i rimborsi e questo atto fa sì che ci sia anche una uniformità all'interno delle tre asle perché non tutte funzionavano allo stesso modo in tema dei rimborsi e quindi si potranno avere quei rimborsi alle famiglie che vivono questi percorsi con figli che vivono nello spettro autistico di poter avere rimborsi. Poi chiaramente questo atto vuole anche dare sostegno alle famiglie vuole dare maggiore inclusione a queste persone e quindi io credo che oggi sia stato fatto qualcosa di importante perché è un fatto che aveva scandalizzato un po' tutti e finalmente si riporta in linea fino a quello che era successo nel 2022 su questo tema e quindi il Consiglio regionale tutto ha approvato questo atto e quindi esprimo veramente soddisfazione. Sì assolutamente abbiamo raggiunto un testo che ha trovato il consenso di tutto il Consiglio regionale, un testo ragionevole che dice nella sostanza che date le complessità anche da valutare tra l'altro l'assessore ha chiesto alcuni interventi anche da parte del Ministero la Giunta faccia un atto che metta a sistema tutti gli interventi che riguardano l'autismo confrontandosi ovviamente anche con i livelli nazionali e nel frattempo si congeli sostanzialmente la situazione pregressa e quindi a quelle famiglie che usufruivano dei contributi per l'attività extra-lea previste dalle delibere del 2001 e del 2023 continuino a riceverlo fin quando la situazione non sarà chiarita. Questo mi pare sia un principio corretto che va incontro alle famiglie e che poi permetta anche a tutto il sistema toscano di avere un sistema omogeneo che vada nella direzione di dare i trattamenti migliori ai bambini che sono nella sindrome autistica. In Consiglio regionale confronti dibattito sulla disforia di genere un tema delicato che viene affrontato dalle forze politiche del Consiglio con posizioni molto diverse tra di loro. Con incongruenza di genere ci si riferisce alla marcata e persistente incongruenza tra la propria identità di genere e il genere assegnato alla nascita. Nel caso in cui tal incongruenza determini una intensa e persistente sofferenza si parla di disforia di genere. Il Consiglio regionale ha affrontato questo tema in seguito ad un'ispezione presso l'azienda ospedaliera di Careggi da parte del Ministero della Salute all'uso della triptorelina. Sull'argomento, delicato quanto importante per le famiglie, il Consiglio ha convocato una seduta della Commissione Sanità. Ancora, io personalmente non l'ho letta la relazione del Ministero dove si presume o comunque da relazioni giornalistiche che si dice che le cose non sono state fatte nella maniera corretta. Personalmente, da medico, vedo strano che i miei colleghi possano aver disatteso determinati criteri o comunque linee guida. Se è stato fatto, probabilmente è stato fatto per un'interpretazione errata. Quindi io ad oggi rimango garantista sull'attività dei miei colleghi di Careggi. Ritengo che se ci sono state delle anomalie volute o per superficialità queste debbano essere colpite perché ovviamente si parla di una situazione estremamente delicata e grave ma voglio assolutamente rendermi conto di persona leggendo la relazione e ne ho la possibilità di poterla valutare personalmente se oggettivamente sono state fatte queste anomalie. Quindi mi spoglio della mia parte politica e voglio vedere realmente che cosa è successo. Se verrà confermato che le cose non sono state fatte bene è giusto che ci siano dei provvedimenti forti. Allora, io su questo voglio essere molto chiaro e evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Per noi la disforia di genere è un problema serio che deve essere trattato in maniera seria e che deve essere curato in maniera seria. Proprio per questo motivo qui pensiamo che i centri che si occupano di incongruenza ed eventualmente disforia di genere debbono avere al proprio interno un neuropsichiatra infantile che è il medico specialista che può occuparsi di una situazione come quella appunto della disforia di genere che è ritenuto essere un disturbo psichiatrico che colpisce prevalentemente bambini, adolescenti, ragazze e ragazzi. Il centro di Careggi che si è occupato in questi anni di disforia di genere è un centro che non ha al proprio interno e tutto l'azienda ospedale universitaria di Careggi non ha al proprio interno un neuropsichiatra infantile quindi noi riteniamo che non sia un modo serio di occuparsi della cosa e di curare la cosa. Noi abbiamo, l'abbiamo detto all'inizio di questa vicenda invece il serio timore, e su questo vorremmo essere rassicurati che a Careggi anziché curare la disforia, l'incongruenza di genere non si sia fatta una battaglia ideologica sulla vita e sui bambini e delle bambine che si rivolgevano a quel centro. Cosa gravissima questa. L'indagine del Ministero, le esternazioni a mezzo stampa, le risposte dell'assessore e del Presidente Gianni in queste settimane hanno confermato quello che era il nostro timore. A Careggi non c'è un neuropsichiatra infantile che si occupa di disforia di genere e quindi di conseguenza è stato affrontato in maniera non seria in maniera non scientifica e questa è una questione gravissima. Non ci aspettiamo le dimissioni del Direttore Generale e del Direttore Sanitario di Careggi che non hanno controllato come dovevano controllare. Ci aspettiamo le dimissioni del Direttore Dipartimento e del Direttore del Centro. Insomma, non si scherza su queste cose, non si fanno campagne ideologiche sulla vita dei bambini. Allora, il tema è un tema serio e non c'è bisogno di fare sceneggiate su questo tema che non servono a niente. Quando è venuto il tema delle contestazioni, delle ispezioni del Ministero al Centro relativo alla disforia di genere di Careggi noi abbiamo immediatamente convocato una commissione per chiarire come stava funzionando il centro ed era convocata l'8 febbraio del 2024. È arrivata dopo la convocazione una lettera del Ministero che ha chiesto di non procedere con l'analisi in commissione finché l'ispezione non fosse conclusa e fosse redatta questa famosa relazione. E noi, diciamo così, pur non dovendo rispettare le indicazioni del Ministero, ci è sembrato opportuno seguire le indicazioni di collaborazione che il Ministero diceva e non abbiamo svolto quella commissione rinviandola alla prima data utile successiva all'invio della relazione del Ministero. Il Ministero ha inviato la relazione all'assessorato e è arrivata lunedì e quindi noi abbiamo convocato immediatamente per la prima data utile quindi lunedì prossimo alle 9.30 è convocata già da stamattina la Commissione Sanità che vedrà l'audizione dell'assessore Bezzini del direttore Celli, della direttrice Matarrese e di tutta la struttura di Careggi. Quindi noi non solo ne vogliamo parlare abbiamo interesse a carire a tutti i cittadini come funziona il centro di Careggi sicuri della correttezza del lavoro che stanno svolgendo i professionisti di Careggi e quindi tutt'altro che quello che è stato detto oggi in Consiglio regionale. Non vogliono portare alla luce quello che succede non vogliono discutere in Consiglio regionale cioè se non discutiamo degli elementi essenziali del sistema sanitario regionale in Consiglio regionale dove dobbiamo discutere? Se un fatto grave come questo non viene portato all'attenzione del Consiglio regionale nel primo Consiglio regionale utile cioè la vicenda è di sabato noi ci saremmo aspettati che oggi l'assessore venisse in Consiglio e relazionasse su questa vicenda come se nulla fosse non possiamo accettarlo continueremo la nostra battaglia ringraziamo il senatore Gaspari Forza Italia al fianco delle famiglie e dei bambini chiede la verità e su questa vicenda non faremo un passo indietro Io so che su questo si è stato fatto un polverone strumentale da un punto di vista partitico-politico assurdo possibile che in un rapporto istituzionale corretto il ministro che è stato sensibilizzato e che quindi ha provveduto a istituzioni invece che mandare la relazione degli ispettori alla regione toscana e alla ASL competente perché si tratta della ASL centro la consegna a un deputato che viene in una manifestazione elettorale domenica scorsa ne fa sfoggio quando in realtà non vedo che cosa c'entri il deputato rispetto a una gestione che è della ASL la quale deve rendere conto alla regione e contemporaneamente ci arriva dopo queste esternazioni del deputato del parlamentare due giorni dopo una relazione che vediamo essere molto diversa da quella che è stata prospettata pubblicizzata metiacizzata da questa persona perché la relazione che arriva dal ministero è una relazione che certo rileva alcune criticità ma non mette in alcun modo in discussione questo servizio coglie l'esigenza di alcuni accorgimenti perché venga svolto meglio e noi prontamente li realizzeremo nella presenza costante di un neuropsichiatra ad esempio insomma una relazione quella degli ispettori e delle prescrizioni fatte alla ASL che sostanzialmente è una relazione come tante altre in cui poi ci si mette in linea con quello che sono le richieste del ministero probabilmente in condizioni normali sarebbe stato processo fisiologico nemmeno denno d'attenzione da parte dei giornali e dei media ma in questo caso ci siamo a due mesi dalle elezioni ecco che il modo assolutamente discutibile assolutamente termina qua il nostro appuntamento dierno con il Consiglio regionale della Toscana noi ci fermiamo e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni Grazie a tutti